Era importante superare il turno, era importante fare gol. E' chiaro che sarà importante fare gol soprattutto domenica perché vedo che le statistiche sono quelle che magari creano più tensione. Penso che soprattutto nel primo mezz'ora una squadra con meno tensione avrebbe magari potuto chiudere la partita. Invece si è visto proprio come al di là del 2-2 di Atene questa squadra aveva dentro qualcosa che non la rendeva tranquilla e perciò magari è stato più difficile riuscire a sbloccare il risultato di quanto il campo poteva dire o dimostrare. Perciò diciamo che sono stati due volte bravi perché oltre a vincere la resistenza dell'AEK che non dimentichiamoci era prima in classifica fino a pochi giorni fa nel campionato greco abbiamo vinto anche questa tensione che forse era la cosa più pericolosa per il futuro.